ciao a tutti ragazzi qui è Larry Sun e sono tornati in un nuovo video oggi come promesso vi porterò l'allenamento con la Wii allenamento polediano che bello sei già poco sudato te vero no no è spenta la Wii balance è spenta ecco questo che russa ma che sta facendo le uova scusa ripreso un attimo a tuo fratello che russava vola io sfrutto tantissimi saldo fai corri corri per i 5 49 oh non devi farli perché se no me lo abbia un casino ricordati a tutto casino non è una parolaccia cos'è madò hai tremato si c'è pure un tizio che non so chi sia c'è che poi interaggianto 93 secondi la madò cos'è salta però oh tizio ma ci sono i tionchi bustel vegetariani che buono quelli col tofu si che buono oh e dove li prendi quelli al forno pubblicità questa è la pubblicità dalla dalla super vane madonna che voce che ho sentito la tua mamma chiamami babbo corri oh il piede pustolente di larry sun corri salta oh salta la madò no 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 ma finisce malissimo però ma finisce malissimo però lo sono tutto schiaccio c'è il tuo cane che sta facendo sottofondo musicale salta oh salta ma ce l'hai la testa o l'hai lasciata sulle nuvole oddio sta facendo un incubo sono caduto sveglia tom tom piano sveglia il piano sta facendo un brutto sogno l'hai fatto imbossare anche la lingua stavi dormendo stavo facendo un brutto sogno brutto sogno torna a dormire occhio rosso vai corri 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 veloce no come veloce ha volato meglio di così perso faccio il primo brutto via ciao ne il tuo punteggio totale 371 pt beh dai prima ce l'ho fatta 15 punti 15 punti oggi cosa hai fatto? hai bruciato? in tutto in tutto almeno 20 caroli saluta basta che stai sudando no no saluta non ho cominciato un po' sì no no ti do un calcio nel sedere corri ovviamente si fa in questo orario perché di sotto non ci abita nessuno sì vado a 96 secondi il coso dice di andare così stai colando sudore lo so quindi stop no devo finire devo fare una bella finita vai salta però no c'è ruoto ma allora tu vedi bisogna salutare stai facendo una figuraccia adesso ciao ne a me lo fanno i baila salta ciao va venga ti va a finirà no se so quasi praticamente 60 secondi ma non mi basta ma tu sei un tronco bello questa registrazione con lo sciacquone no oh che brutta cosa ma se io faccio così cacchio corri veloce 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 salta corri come ma ero fuoco fatuo fuoco fatuo fuoco fatuo saluta va che brutta cosa vedi ti devi tenere il primo posto sei andato giù fuoco fatuo mamma mia sei rovinato fuoco fatuo quante calorie cinque calorie in tutta sta fatica no ma io non mi ci metto neanche non ripeti non fare il furbo lasciali in pausa la faccio io lascia lì lascia lì lascia lì adesso la faccio io ovviamente non sarò ripresa e dove sei qua eccoti sono fuoco fatuo fuoco fatuo fuoco fatuo quindi ciao ciao ragazzi ci vediamo in un nuovo video adesso vai a bere vero sì ciao quindi ciao 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 ciao